i tedeschi riusciranno a mantenere la loro posizione sugli italiani o meno dunque gli italiani al primo intertempo erano sul 5,69 quello relativo alla spinta e al secondo intertempo 44,84 vediamo adesso cosa riusciranno a fare i tedeschi dell'est di Deder 1 in pista con un'eccellente tempo di spinta i tedeschi dell'est Deder 1 comunque la loro spinta è più lenta e meno potente di quella di Ghedina e Meneguzzi fino a questo punto sono più lenti degli italiani di questa seconda manche sono leggermente più lenti di Ghedina e Meneguzzi però ci stanno recuperando ci pare una corsa abbastanza pulita la loro adesso errori, errori il curvone d'arrivo il curvone d'arrivo però scavalcano gli azzurri sono secondi davanti a Italia 1 da questo momento pertanto il vertice della Pacifica è il seguente Deder 2 poi Deder 1 e al terzo posto Italia 1 che precede Giappone 1 classificata quarta Austria 2 Canada 2 e via via gli altri vedete gli errori che hanno commesso l'imbocco che hanno commesso l'imbocco del curvone finale i tedeschi di Deder 1 Schönau e Leglet ciò nonostante sono riusciti a scavalcare gli azzurri